163 eva carriere 1866 non si conosce l'anno del trapasso fu uno strumento degli inizi del contatto organizzato con i piani superiori di esistenza la carriere era nota per le produzioni di ectoplasma che sembrava diminuire di peso pur fluttuando nell'aria alcuni ricercatori pensarono che l'ectoplasma diminuiva di peso per lo sforzo operato dalla sostanza per superare la gravità altri ricercatori però non riuscirono a ripetere l'esperimento anche questi pensarono che l'ectoplasma adegui la sua azione ai desideri dello sperimentatore stabilendo con esso un rapporto telepatico esperimenti più recenti anche se molto più rari poiché i fenomeni fisici cessano progressivamente a vantaggio delle medianità di insegnamento confermano questa incapacità della scienza a spiegare le leggi spirituali grazie a tutti